Ciao a tutti, sono Mirko, ho 22 anni e vengo da Aprilia. Sono in attività con Momento Espresso da aprile 2016 e è stata una delle opportunità più grandi che mi è capitata nella vita perché questa attività si dice, ma non si dice solamente perché lo è realmente, sono moltiplicatrici di tempo. Moltiplicatrici di tempo perché? Perché potendoti creare una rendita ognuna entrata di soldi automatica hai a disposizione quelle otto ore che tutt'oggi passo in fabbrica per magari fare qualsiasi altra cosa che sia nei miei interessi come ad esempio stare con la mia famiglia e i miei amici e comunque con le persone che amo.